ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mio nuovo acchiappon ho fatto anche rock muovendo l'orologio almeno si carica un pochino eccolo il mio bellissimo nuovo longin hydroconquest ho preso un longin hydroconquest fatemi ve lo mostro ve lo mostro un attimino così al volo è come sapete questo longin hydroconquest con la ghiera rossa è uno di quelli che sono stati realizzati dal 2013 al 2015 ho fatto anche un video a riguardo praticamente potete andarlo a vedere dove c'è la storia dove dipanno la storia di questi simpatici hydroconquest durante gli anni ok dal 2007 al 2013 fecero quel modello che era con 12 6 e 9 il classico quadrante dell'idroconquest poi dal 13 al 15 hanno fatto questo con i numeri arabi tutto intorno al quadrante poi dopo il 2015 sono tornati al 12 6 e 9 a quadrante 12 6 9 fino a giorni nostri poi è cambiato è modificato quindi questo orologio qua questa versione qua l'hanno fatta solamente per due anni dal 2013 al 2015 ed è anche l'unico periodo nel quale hanno fatto con la ghiera rossa a me non mi risulta che esista il quadrantone con i numeroni con la ghiera rossa io possedevo nel 2017 possedevo l'idroconquest col quadrante classico e con 44 da 44 mm di diametro cassa ho avuto quel modello lì ora poi c'è anche da fare una piccola storia a riguardo dei calibri prima di questo modello qua incassavano l'l 633 ossia l'eta 28 24 questo modello qua incassa l'l 619 che sarebbe l'eta 28 92 pari pari rinominato dopo il modello successivo rincassa nuovamente il calibro l 633 l'eta 28 24 per un certo periodo gli ultimi di quella produzione lì però a cominciare dal mio 44 mm tornavano ad incassare nuovamente l'l 619 cioè l'eta 28 92 che è un po più pregiato no poi quelli nuovi che sono usciti dopo il 2018 con la ghiera in ceramica lì si è passati all'l 888 che sarebbe l'eta 28 92 ma è voluto con la spirale libera la regolazione inerziale la riserva di carica maggiorata altro calibro che è tuttora all'interno dello spirit ad esempio del mio logico spirit eccolo qua lo volevo dal 2013 al 2015 lo hanno fatto io lo volevo sì però non volevo così subito cioè praticamente cosa è successo è che io la sera la sera prima l'ho visto su ebay non so perché sono andato a fare la ricerca ogni tanto le faccio queste ricerche qua sono andato a fare la ricerca su ebay di questo qua l'ho trovato in vendita 650 euro che è veramente poco non sono stato a studiarlo più di tanto era tardi l'ho messo tra i preferiti ho detto lo riguardo domani la mattina dopo mi sono dimenticato l'amico caramaschi che è il solito in fingardone cosa ha fatto mi ha mandato un link mi ha detto guarda che su facebook stanno vendendo un ghiera rossa e io guarda che ieri sera su ebay l'ho messo tra i preferiti lo sapevo già però me l'ha rimesso in mente ho detto visto che l'hanno messo in vendita su facebook vuoi vedere che lo vendono in 4 e 4 8 e io rimango col becco asciutto quindi acquisto impulsivo su ebay click sono andato su ebay perché su facebook non mi fido ok su ebay c'è la protezione paypal e tutto l'ho acquistato direttamente su ebay 659 euro ora io sono andato anche vedere i prezzi così basso non l'ho mai visto addirittura ce n'è uno ancora in vendita adesso 1500 euro al quarzo 1500 euro al quarzo io ho pagato 659 chiaramente solo orologio senza scatole garanzia la scatola l'ho già addocchiata lì su ebay 50 euro ti mandano la scatola prossimamente magari la prenderò detto questo ho anche sbagliato perché ho fatto l'acquisto impulsivo va bene e ci sta a fare l'acquisto impulsivo però le domande vanno fatte bisogna fare delle domande al venditore cioè io non posso cliccare comprare così da neofita e l'ho fatto l'ho fatto perché dalla paura di perdere l'ho fatto una domanda che avrei dovuto fare sicuramente quanto è lungo il bracciale perché io ho un bracciale abbastanza consistente e non solo quello e quindi ci sta anche che determinati orologi col bracciale non li possa indossare fortunatamente è arrivato che riesco ad indossarlo eccolo qua riesco ad indossarlo è esteso alla lunghezza massima e c'ho ancora un po di gioco quindi ora è inverno quando viene l'estate poi magari avrò bisogno magari di qualche altro o di una maglia aggiuntiva non lo so per adesso va bene così mi sta perfettamente al pulso quindi no però le domande vanno fatte al venditore volendo essere pignoli perché non è la scatola la garanzia si può ragionare sul prezzo l'orologio è preciso marcia preciso in modo che se lui ti dice sì e poi non lo è hai qualcosa da contestargli perché io non gli ho chiesto niente quindi non gli posso contestare niente ho cliccato comprato come e dalle foto dalle foto lo vedevo che era vissuto però le foto ingrandite lo rendono peggio di quello che in realtà è tranquillamente indossabile ai segni vissuti ora se ci sono anche le immagini macro si vede la ghiera c'è qualche screpolatura qualche airlines così come il bracciale la clasp tutte cose normali per un orologio di dieci anni presumiamo che sia del 2014 2024 10 anni tutte cose normali non gli ho chiesto della precisione infatti l'ho monitorato perde 30 secondi al giorno non mi interessa non mi interessa se perde 30 secondi al giorno però è sintomo che una revisione andrebbe fatta sono passati dieci anni ecco fatto che un età 28 92 me ne perde 30 al giorno andrebbe fatta quindi sto valutando cosa fare o se tenerlo così godermelo così che ci sta perché basta che lo metto quando lo regolo lo metto un minuto prima un minuto in anticipo che ci sta un minuto in anticipo in un giorno vado 30 secondi in anticipo dopo due giorni sono a zero e per altri due giorni vado a meno uno quindi tra più uno e meno uno di minuti per quattro giorni che non indosso ma un orologio per quattro giorni ci sono dentro potrei fare così oppure siccome sono abbastanza fissato potremmo andarlo direttamente al servizio assistenza ufficiale della login e fare magari un video come ho fatto con l'omega no l'email lo vengono a prendere i tempi quanto e come torna cosa hanno fatto cosa hanno fatto il prima e il dopo potrebbe essere anche un'idea oppure a fidarlo all'orologiaio amico mio yardella da privato a vedere cosa riesce a fare lui tutte cose che si possono fare che sto valutando per adesso però me lo guardo così perché mi piace è proprio bello 41 mm non l'ho detto ho preso il 41 mm perché c'era ci sarebbe stato anche il 39 ho preso 41 perché l'ho trovato 41 lì a 650 e non lo lascio lì il dubbio era tra 39 e 41 ma io sono ritengo che 41 possa essere della misura corretta al polso mi sta bene c'è niente c'è poco da dire altre cose da dire che si magari sul calibro l 619 altri non è che veramente l'eta 2892 pari pari rinominato mentre l'888 è un'evoluzione ci sono state delle portate delle modifiche quindi diciamo è migliore l'888 che c'è ora come punti deboli avete visto no avete visto non avete visto niente ve lo dico io la luminescenza non è così forte ok la mia prova del 9 ora avete voglia vedere le luminescenze belle la mia prova del 9 è quella dell'uomo comune quando di notte di sera vado sul terrazzo a fumare ok c'è questo brutto vizio guardo sempre all'orologio come reagisce allora quando vado fuori con lo jean spirit con l'omega con un rolex mi devo mettere gli occhiai da sole perché abbagliano no si vede tutto questo qua si riesce malapena a percepire le sfere i numeri non si vedono non si vedono quasi e questo è la dice lunga su in dieci anni dal 2014 a oggi come sia anche migliorata a longina a livello qualitativo perché il super luminovano credo che vada a decadere quindi poi in dieci anni figurati quindi il super luminovano utilizzato sullo spirit ad esempio nettamente migliore di questo qua dovrebbe essere migliore in questo che è un dive poi un altro punticino debole è semplicemente questo simpatico ma prolunga la prolunga per per la muta per l'indumento da mettere sopra l'indumento e lamierino semplice sottile proprio come usava qualche anno fa siamo solo dieci anni fa non so adesso l'idroconquest come messo quello nuovo a questo non l'ho mai recensito perché l'ho recensito a bizzef forse il gmt l'ho recensito non me lo ricordo comunque non mi ricordo com'è qua il livello è quello che io sono contento di questo acchiappo è purtroppo è stato un acchiappo compulsivo perché la scimmieta l'ha visto è matto dei coppettoni qua dietro veloci ta 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 prendilo 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 io ho cliccato e l'ho preso tanto sono senza orologi e cosa facciamo siamo senza orologi e noi l'abbiamo comprato sono contento tanto io a me i longin mi piacciono cioè sono gli longin vintage i longin contemporanei questo qua si va a piazzare dieci anni prima dei contemporanei e ci sta è un anche questo qua può diventare uno di quelli invendibili alla luce dell'amore amore della stima dell'affetto insomma mi piacciono i longin capito quindi ci sta e poi bello il polso sta bene va bene dai io direi che ho detto tutto non è una recensione una panoramica più che altro è un breve video per presentarvi il mio orologino va bene io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao